Le prime notizie di lunedì 15 luglio. E' morto per un malore mentre inseguiva un ladro. Tragedia ieri mattina a Manfredonia. Un commerciante 48enne di origini pakistane è stramazzato al suolo cercando di bloccare un uomo che aveva rubato merce dal suo negozio di bigiotterie e cover al vaglio i filmati delle videocamere della zona. Quattro anziani sono morti per malori tra sabato e domenica sulle spiagge pugliesi. Ieri mattina in località Lama, Marina di Taranto, un ottantenne ha perso i sensi mentre era in acqua, inutile il trasporto in ospedale. Sempre ieri mattina a Giovinazzo un pensionato di 71 anni è morto su una spiaggia in località Trincea. Sabato mattina a Lido Tabù a Porto Cesario è morto un settantenne originario di Brindisi. Quasi contemporaneamente sulla spiaggia di Pana e Pomodoro a Bari è deceduto un altro ultra settantenne. È morto a poco più di un mese dall'incidente nel quale aveva perso la vita la moglie. Il cuore di Antonio Negro, 69 anni, di Cutrofiano, ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del Fazzi di Lecce dove era ricoverato dal 14 giugno quando la Smart sulla quale viaggiava con la moglie, Anna Maria Orlando, si era schiantata contro un'auto. Un bambino di poco più di un anno è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo essere stato aggredito da un pitbull di un familiare. È accaduto a Modugno mentre il piccolo si trovava in casa di un parente. Il bimbo è stato operato da chirurghi plastici e sedato e intubato. Ha riportato gravi ferite al volto. Un animatore di 17 anni, assunto da un villaggio turistico di Melendugno, è confronti di una ragazzina di 13 anni della provincia di Frosinone in vacanza con la famiglia. Il giovane è originario del Trevigiano e sostiene di aver avuto un rapporto sessuale consensuale con la tredicenne. Pauroso incendio ieri in un deposito lungo la provinciale 4 Lecce Villa Convento alle porte del capoluogo in fiamme, cassette di legno e plastica. Il rogo è divampato a causa della presenza di sterpaglie. Le temperature roventi hanno fatto da miccia. Una discarica non autorizzata di rifiuti speciali è stata scoperta dai carabinieri forestali di Taranto incontrata a Giranda, nel comune di Statte, ad abbandonarli nel corso degli anni. Sarebbe stato un 56enne tarantino che svolge abitualmente l'attività di svuota a cantine. L'uomo è stato denunciato e l'aria è stata posta sotto sequestro. Calcio tegola improvvisa sul Lecce nell'immediatezza della partenza per il ritiro precampionato in Austria. Lo staff sanitario nel corso delle rituali visite mediche ha riscontrato nel calciatore spagnolo Juan González una patologia cardiaca sopravvenuta le cui cause sono in corso d'accertamento. Il centrocampista giallorosso per il momento non prenderà parte al ritiro precampionato. Meteo sarà un'altra giornata di caldo torrido sulla Puglia con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Molto caldo sul versante adriatico con clima più affoso specie nelle ore serali. Venti di maestrale moderato, mari poco mosso l'adriatico, calmo lo Ionio. Queste le prime notizie di oggi appuntamento a domani. Grazie a tutti.